bentornati carissimi qui sul canale del dottor sedrei e benvenuti a questo primo filo in fondo estivo un filo in fondo un po particolare perché il tema in questo caso l'ho deciso io però se avete degli argomenti su cui vorreste che io parlassi nei prossimi video estivi mi raccomando commentate con l'argomento con il tema di cui vorreste si parlasse nel prossimo video in questo caso si parlerà del concetto di memoria in questi giorni in questo periodo in cui non ho fatto video perché ho avuto dei motivi personali delle situazioni personali che me l'hanno un po impedito ho molto ragionato sul concetto di memoria per riprendere un po il filo sul dove eravamo arrivati in filosofia avevamo visto come per schopenhauer l'elemento fondamentale alla base dell'esistenza della vita fosse la volontà la volontà di sopravvivere che all'interno di ogni corpo vivente di ogni essere vivente e che lo spinge spinge tutto l'universo tutti gli elementi che lo compongono a cercare di sopravvivere ora io penso che schopenhauer sotto questo punto di vista avesse veramente fatto centro e che effettivamente la forza alla base dell'universo sia questa qui il tentativo di continuare a sopravvivere un tentativo che nasce per l'appunto dalla volontà se però per molta parte dell'universo questa volontà si rappresenta in all'interno degli atti che vengono svolti da dagli esseri dagli enti che compongono l'universo e quindi in ciò che tutti gli enti fanno in ciò che compone la vita di ogni individuo per quanto riguarda l'essere umano ovviamente la volontà non esaurisce il parco di azioni che ogni uomo compie perché l'essere umano è fondamentalmente una sofisticazione elevatissima di quello che c'è alla base dell'universo se alla base dell'universo c'è la mera sopravvivenza quindi il mangiare il riprodursi l'andare a letto eccetera e poi alla fine ovviamente il morire tutto quello che l'essere umano fa all'interno della società in cui siamo abituati a vivere è sofisticare rendere più complesse creare sovrastrutture per utilizzare un termine marxista di ciò che l'universo di per sé gli ha messo a disposizione e dunque laddove l'animale cerca semplicemente di mangiare e di ottenere i nutrimenti per poter continuare a sopravvivere l'essere umano crea una sorta di scienza che è diventata la cucina e va a sofisticarla sempre di più per rendere i propri piatti sempre più buoni laddove l'animale cerca meramente di riprodursi l'essere umano trae godimento per non la riproduzione ma per l'atto che poi porterà alla riproduzione sofisticandolo nelle maniere più curiose e simpatiche perché l'essere umano è in grado di fare questo dunque laddove la natura l'universo spinge gli enti che lo compongono semplicemente alla sopravvivenza l'essere umano sofistica questa sopravvivenza attua questa sorta di sofisticazione per tentare di rendere la propria sopravvivenza un qualcosa di molto di più non ci accontentiamo semplicemente del tentare di sopravvivere del vivere il più a lungo possibile noi vogliamo che la nostra vita sia un qualcosa di particolare il più possibile oggetto di godimento di star bene ma non solo perché quello che noi facciamo all'interno della nostra vita non può essere semplicemente considerato come il mero tentativo di ottenere il miglior modo di esistere possibile perché l'essere umano nel momento in cui esiste nel momento in cui si rende conto che ciò che lo attorno è che ciò che comunque comporrà la sua vita perché tutte le cose a cui andrà incontro nel corso della sua vita comporranno la sua medesima vita e quella medesima vita è destinata a finire ebbene l'essere umano non si accontenta del mero ic et nunc e cerca e ragiona all'interno della sua esistenza anche su un piano di più lungo periodo di più lungo respiro va a considerare che la propria vita si certo terminerà e quindi considererà anche il proprio sé ciò che noi siamo stati anche in quanto oggetto di memoria ora la memoria un elemento fondamentale nella vita di ogni essere umano perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo basandoci su ciò che sappiamo del mondo e ciò che sappiamo del mondo lo sappiamo in quanto abbiamo un oggetto di in quanto siamo organizzatori di memoria siamo in grado di costruire i nostri ricordi di avere un enorme background all'interno della nostra scatola cranica e perdono e del nostro corpo in generale grazie al quale siamo in grado di affrontare la vita con questo bagaglio con queste conoscenze che ci permettono di vivere di giorno in giorno ma la memoria di cui a cui sto facendo riferimento non è tanto quella dell'individuo per quanto riguarda la propria vita attuale quanto piuttosto la memoria che avranno le altre persone nel momento in cui quell'individuo specifico non ci sarà più e questo è un elemento che in realtà teniamo in considerazione molto di più di quanto probabilmente ci rendiamo conto certo non è che quando io compio le mie azioni quotidiane sono lì a pensare chissà cosa penseranno di me i miei posteri nel momento in cui non ci sarò più di come mi lavavo i denti o di quello che facevo all'interno della mia camera da letto per rimanere sui temi che dicevamo prima però man mano che si invecchia man mano che ci sia propinqua a quel momento finale che è rappresentato dalla morte per quanto ci riguarda probabilmente si inizia anche a ragionare su come quello che abbiamo fatto tutto l'insieme delle azioni che abbiamo compiuto porterà le altre persone a considerarci una volta che saremo di partiti ecco io credo che determinate scelte che vengono compiute come ad esempio quella di scendere in politica o all'interno della propria opera politica come possiamo vedere e vabbè basta o all'interno della propria opera politica come possiamo vedere da parte dei grandi uomini della storia e anche della contemporaneità le scelte che vengono svolte come ad esempio scegliere di invadere un paese straniero scegliere di accentrare il proprio potere su di sé o al contrario scegliere di far fare al proprio paese la strada migliore possibile sono tutte scelte che sì certo possono essere viste come tentativi di ottenere il miglior momento presente possibile ma al contempo sono a mio parere probabilmente anche spinte dal fatto che il politico considera se stesso come un oggetto della storia e tenta con buona probabilità di entrare nella storia e per entrare nella storia ci sono varie chiavi perché entrare nella storia significa essere ricordati ora essere ricordati in generale è uno degli elementi che ci spinge a fare le cose che facciamo le cose probabilmente più a cui diamo più importanza per fare un esempio molto personale quando io ho iniziato a fare i miei video di storia della filosofia uno dei motivi che aducevo dietro al fatto di volerlo fare era proprio questo tentativo di voler essere ricordato per quella che era la mia ottica sulla filosofia e consideravo che i video sarebbero sopravvissuti a me chissà se questa cosa sarà vera oppure no io continuo a urtare sul microfono vi domando scusa però è vero che i video con buona probabilità mi sopravviveranno bisogna vedere quanto a lungo internet sopravviverà in seguito però è probabilmente vero che quello che io ho compiuto l'ho compiuto anche nell'ottica del fatto che quello che io ho creato mi sopravviverà allo stesso modo i testi dei grandi autori sono sopravvissuti agli autori stessi e noi parliamo di schopenhauer ma parliamo anche degli autori medievali parliamo degli antichi vissuti migliaia di anni fa e noi ne abbiamo una memoria noi li ricordiamo ora considerare che essere ricordati sia un elemento per cui noi svolgiamo determinate azioni rende quelle azioni come figlie del tempo figli anche del futuro figlie di coloro che ancora non ci sono e che valuteranno quelle azioni che abbiamo compiuto nel presente per rimanere nella storia però sembrerebbe dalle parole che abbiamo appena detto che serva a fare qualcosa di veramente grosso serva diventare un politico creare le condizioni per cui scoppia una guerra o via dicendo cercare di gestire una pandemia eccetera 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 ma al contempo anche volendo dall'altra parte diventare l'essere umano più cattivo di sempre o al contrario il più buono di sempre quindi possiamo immaginare che entrambi i personaggi ad esempio sia hitler che gesù presi come personaggi storici siano così celebri perché da una parte si è scelto di andare molto a fondo nella profondi nelle profondità dell'immoralità e dall'altra molto in alto nell'iperuraneo della bontà ovviamente vedendoli come personaggi storici qui non mi interessa il fatto che uno dei due sia considerato una divinità ovviamente non sto parlando di hitler perché se addirittura c'è qualcuno che lo adora come si potrebbe adorare il diavolo beh no probabilmente così quindi entrambi possono essere visti come divinità ma in questo caso a noi interessa semplicemente il personaggio storico bene però dicevo che non è necessario che si svolgano azioni così grandi per essere ricordati tutti noi nel momento in cui abbiamo dei rapporti con gli altri esseri umani avremo lasceremo dei segni e quei segni il modo in cui verremo ricordati non necessariamente a parole perché ad esempio il funerale di una persona e le parole che vengono dette a quel funerale sono delle sofisticazioni come dicevamo all'inizio dell'elemento base della natura l'elemento base della natura è la morte l'uomo affronta la morte con queste sofisticazioni con queste teatralità con queste gestualità e ritualità che vengono racchiuse all'interno delle varie società nelle modalità attraverso cui si affronta il morire di qualcuno quindi o con il funerale cristiano o con tutte le altre maniere che al mondo sono state sviluppate a partire da centinaia di migliaia di anni fa nell'affrontare la dipartita di qualcuno tutto questo però è una sofisticazione del fatto che una persona scompare e ne rimangono i ricordi ne rimane la memoria che le altre persone hanno di essa aristotele considerava ad esempio che perché si possa dire se una persona fosse una persona morale o una persona immorale non questa non fosse un'opinione che si poteva dare prima che quella persona fosse morta perché solo alla fine della vita si sarebbe potuto valutare l'interezza delle opere degli atti che quella persona ha compiuto e solo a quel punto si sarebbe potuto considerare se quella persona fosse effettivamente una persona morale oppure no ma la memoria degli individui è destinata comunque a scomparire perché noi come dire nella nostra piccolezza nella nostra quotidianità se non entriamo nella storia andiamo ad avere degli effetti quindi a lasciare dei segni delle impronte solo su un determinato numero di persone e quando quel numero di persone scomparirà a sua volta probabilmente la nostra memoria scomparirà per sempre e nel momento in cui anche gli oggetti che abbiamo lasciato che dovrebbero far perdurare la nostra memoria come dicevo prima possono essere per me i video possono essere le grandi opere storiche per i grandi autori nel momento in cui quelle opere dovessero scomparire anche la nostra memoria sembrerebbe scomparire però in questo senso mi sento di considerare che nessuno scompare mai veramente e questo non vuole però essere un video ribadisco religioso ma vuole essere un video razionale perché nessuno scompare mai perché nel momento in cui viene compiuta un'azione quindi nel momento in cui semplicemente iniziamo ad esistere noi facciamo parte di un universo e noi quell'universo lo rendiamo quell'unico universo che ci vede protagonisti ci vede presenti in esso non necessariamente protagonisti ma di cui facciamo parte e il farne parte ci permette di dare di causare determinate cose di essere noi una parte dell'universo stesso noi non solo siamo l'universo che guarda se stesso che pensa su se stesso ma rendiamo quell'universo quell'unico universo in cui noi siamo nel modo in cui noi effettivamente siamo e quindi in cui noi compiamo le azioni che compiamo e se compiamo quelle determinate azioni l'universo precedente alla nostra esistenza non poteva essere in un'altra maniera perché altrimenti noi non saremmo quello che effettivamente siamo e l'universo successivo non sarebbe mai potuto essere in un modo differente da quello che effettivamente sarà perché ci siamo stati noi e abbiamo portato l'universo ad essere quello che effettivamente è ora può sembrare un discorso molto complesso ma per riportarlo ai minimi termini quello che di noi verrà ricordato durerà molto poco e dura molto poco non solo per gli esseri umani come me o come la maggior parte delle persone che non sono elementi storici non sono vladimir putin che invade l'ucraina non sono adolf hitler che ammazza una marea di persone non sono nemmeno gesù che crea un enorme credo e che per migliaia di anni influenzerà tutta l'umanità in pratica anche queste persone che hanno avuto un'influenza enorme sulla storia dell'essere umano finiranno per l'essere dimenticate nel momento in cui l'essere umano tutto tenderà a scomparire o tenderà a cambiare identità ma il fatto di essere dimenticati non implica che non rimanga un'immagine di noi perché tutto quello che viene compiuto tanto ai livelli più alti quindi a quelli con maggiore influenza per i propri contemporanei e per la storia che è una cosa molto diversa perché essere molto famosi nel presente non implica assolutamente che si rimarrà molto famosi nel futuro per fare un esempio molto sciocco un dinosauro qualsiasi che muore che quindi sta perdendo perché viene mangiato da un altro da un altro dinosauro e quindi sta perdendo la lotta per la vita nel momento in cui diventa un fossile viene scoperto da voi diventa da noi diventa molto più famoso di quel dinosauro che se l'è mangiato ed è diventato un elemento incredibile perché dopo milioni di anni viene ancora ricordato viene ancora visto viene ancora studiato e quindi un'influenza enorme sul futuro differentemente da colui che ha vinto il gioco della vita mangiandoselo questo è un esempio però per dire quel dinosauro non aveva la minima idea che sarebbe sopravvissuto nella memoria del mondo così a lungo ma grazie al fatto che noi abbiamo la possibilità di studiare la memoria in questa maniera così specifica quindi studiare la storia e quindi le tracce di ciò che è venuto prima di noi quel dinosauro il suo scheletro per essere precisi il suo fossile diventa enormemente famoso enormemente impattante sul futuro al contempo però tutti i dinosauri tutti gli esseri che sono esistiti e che esistono e che esisteranno rendono l'universo quell'unica cosa che l'universo è ovvero l'insieme di tutte le esistenze che crea l'attimo presente un attimo presente che continua ad avanzare come la linea su youtube mentre state riproducendo un video quella linea lì è causata da tutto ciò che è venuto prima della linea e tutto ciò che è venuto prima della linea non si può più cambiare e tutto ciò che verrà dopo la linea è determinata da ciò che la linea precede e dunque tutto ciò che abbiamo compiuto tutte le azioni che abbiamo svolto nella nostra vita tutte le parole che abbiamo detto hanno creato l'universo per quello che è e il nostro ricordo pur non essendo un ricordo razionale quindi non essendo un ricordo condiviso da parte della società o da parte di tutti coloro che hanno una razionalità per ricordarlo effettivamente non è tanto nella memoria di un essere umano nella memoria degli esseri umani che è una cosa che a noi spinge noi vogliamo che la gente si ricordi di noi e che quindi ci porta ad agire nel modo in cui agiamo cerchiamo di diventare elementi storici cerchiamo di diventare elementi pregnanti per il nostro attimo presente mossi sia dalla volontà di sopravvivere sia dalla volontà di far sopravvivere alla nostra memoria ma questa volontà ci spinge certo ad agire ma è il nostro mero agire ed esistere che rende l'universo quello che è e che ci rende indefinitamente famosi indefinitamente ricordati proprio per il modo in cui rendiamo l'universo quell'unico universo che può essere nel momento in cui siamo esistiti all'interno di esso e l'abbiamo reso quello che è signori il video termina qui spero che vi possa aver lasciato un buon ricordo se avete desiderio di parlare di un argomento specifico nel prossimo video lasciatemelo ovviamente nei commenti così che possiamo fare un qualche filo in fondo basato sui vostri commenti che sono quelli che io prediligo se invece volete aiutare il canale potete anche comprare il mio corso di estetica che trovate sempre in descrizione sulla piattaforma doceti se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace se non vi è piaciuto non mi piace mi raccomando dovete scegliere pollice su o pollice giù nonostante sia storicamente inattendibile per quanto riguarda gli imperatori romani ma questo devo assolutamente tagliarlo commentate sottolineando quanto per voi sia importante la memoria dicendomi come voi vi state facendo ricordare se siete personaggi storici oppure no io come al solito vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo nel prossimo video